Concreta realizzabilità, cantierabilità nel breve periodo, dotazione finanziaria certa, sono i criteri su cui Confindustria e parti sociali hanno rimodulato il patto per lo sviluppo. Tempi certi e fattibilità sono dunque i cardini per un nuovo inizio. Tre le grandi aree di intervento individuate, decisa attenzione per le politiche ambientali nella realizzazione delle infrastrutture, la Valle Ufita come punto focale delle politiche di sviluppo grazie al progetto della piattaforma logistica con il Polo del Freddo e l'accesso alle reti per ridurre il divario infrastrutturale relativo alla banda larga nelle aree rurali. Parlare delle questioni riguardo all'ambiente mi riferisco alla bonifica exisochimica, mi riferisco all'area solofrana, all'area delle Valle del Sabato. Tutte questioni attuali sui quali ci sono impegni della Regione e del Governo a trovare soluzioni nell'immediato. Intervenire poi sulla questione delle infrastrutture, fondamentale partire dalla piattaforma logistica. Tutti confermano l'impegno, l'interessamento ma ad oggi non è partita ancora la gara d'appalto. Un territorio dove l'industria non ha la possibilità di usufruire della fibra ottica, della velocità, del collegamento a internet è un'industria destinata a morire. Il nostro è un paese dove si fanno tantissime chiacchiere e a cui seguono ancora chiacchiere quindi dobbiamo parlare di meno e fare cose più concrete. Il presidente di Confindustria Avellino Sabino Basso lancia poi l'allarme per l'Università del Vino che l'Irpinia rischia di perdere. Abbiamo poco meno di un mese di tempo, spero che il presidente dell'Istituto Agrario possa rimettere in discussione le sue opinioni e dare la possibilità alla provincia di poter costruire e definire questo polo enologico. È un vanto per l'intero territorio, per l'intero Irpinia e probabilmente per tutti i meridioni.